Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico tra Firenze in Prunete e B1 Variante. Si vede disagi inoltre per presenza di personale su strada sempre in A1 tra Monte San Savino e Arezzo, ancora una volta in direzione nord. Regolare il traffico altrove. Uno sguardo al traffico ferroviario per lavori di manutenzione sulla linea tra Pisa Centrale e Empoli nei giorni 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 27 aprile i treni percorretti la linea Pisa-Empoli subiranno delle variazioni, cancellazioni e sostituzioni con bus. Tutti i dettagli ai treni interessati sui nostri canali social. Buonasera, si è Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie. Grazie. Grazie.